Entro la settimana prossima tornerà la giunta dell'amministrazione comunale di Rovigo. Era il 7 febbraio quando l'oramai ex sindaco di Rovigo Massimo Bergamin assicurava che da lì ad una settimana avrebbe formato la nuova squadra amministrativa. Dopo che il 31 gennaio, al culmine dell'ennesima crisi interna, aveva deciso di sciogliere la giunta, vice sindaco compreso, tenendo per sé tutte le deleghe ad Interim. Ieri sera però l'epilogo con 22 consiglieri comunali su 32 che si sono dimessi di fronte al segretario generale, decretando così la fine dell'amministrazione a guida leghista del sindaco Bergamin. La decisione è il frutto del malcontento dei partiti, Carroccio compreso, che lo avevano fino a lì appoggiato. Bergamin, che aveva il sostegno anche di Forza Italia, era stato eletto il 14 giugno 2015, dopo aver vinto al ballottaggio contro la candidata del PD, Nadia Romeo. Quanto accaduto ieri sera arriva al termine di quasi tre anni e mezzo di amministrazione non certo semplici, con tensioni e ben cinque rimpasse di giunta. Scongiurato dunque il rischio commissariamento fino alle elezioni del 2020, visto che la Prefettura aveva ribadito la necessità di chiudere entro il 21 febbraio. Ora i cittadini di Rovigo dovranno tornare anticipatamente alle urne, a fine maggio, per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. Grazie! Sì!